E sembra di essere nella stanza di Matris, dell'architetto, no? Eppure siamo semplicemente in un bagno di un metro quadro, di un metro cubo, qui al centro di Roma, stiamo aspettando che... a Piazza San Lorenzo di Lucina, Daviti, stiamo aspettando che Berlusconi tenga il suo comizio. Ma mi ha colpito questo bagno, perché appunto è un bagno di solo un metro cubo, ma sembra di essere su Matrix, nella stanza dell'architetto. Ciao a tutti Ciao